Dopo un primo video in cui spiegavo con i Lego, con la generalità del Lego, la selezione massale, ho deciso di fare questo secondo video per parlarvi delle popolazioni di piante coltivate che esistono. Sarà sempre un video molto semplice e intuitivo. Intanto vi chiedo di iscrivervi al canale, che è molto molto importante, e inoltre se vi interessano questi argomenti e approfondire anche quelle che sono le fake nell'ambito agrario, vi consiglio di ascoltare il mio podcast che si chiama AgriFake su tutte le piattaforme di podcast. Ma dai, che bello! Ora lo leggo e lo metto qua. Per far sì che le nostre aziende possano competere con l'estero, la manodopera in campo greco, lo specie con la ventizia, è pagata pochissimo. Interessante. Le piante si suddividono in tre grandi categorie. Ci sono le piante autogame, come per esempio il frumento, il grano che dà la pasta, sono le piante che si auto-impollinano, vuol dire che in natura non prendono polline da altre piante, quindi è come se si auto-impollinassero e quindi si mantenessero uguali generazione dopo generazione. Poi ci sono le piante invece allogame, come per esempio il melo, sono la maggior parte di piante, queste piante prendono polline da altre piante, quindi avviene una sorta di incrocio continuo, quindi per forza di cose ad ogni generazione ci saranno delle differenze, perché avviene un vero e proprio rimescolamento genetico. Poi ci sono altre piante, come per esempio il banano, che sono delle piante a propagazione vegetativa, ciò significa che vengono propagate attraverso propagazione agamica, quindi per parti vegetali, e la pianta è esattamente una fotocopia della pianta madre, cioè la pianta figlia è una fotocopia della pianta madre. Diciamo che poche sono le piante in natura autogame, abbiamo il frumento, abbiamo per esempio il riso, la lattuga, mentre la maggior parte sono allogame, praticamente quasi tutte, includendo il pomodoro, il peperone, la melanzana, il mais, includendo anche il radicchio per esempio, mentre pochissime sono a propagazione agamica, ricordiamo il banano che viene praticamente un solo clone, perché la propagazione agamica è una sorta di clonazione, è una clonazione, quindi abbiamo una sola varietà che viene propagata agamicamente di banano, anche se esistono altre specie di banano, però quella coltivata è a propagazione agamica, poi abbiamo per esempio la rundodonax, che è la canna comune utilizzata per scopi energetici o ambientali, e per esempio la pioppicoltura, i pioppi sono, sebbene in natura esistono, esiste la propagazione di tipo gamico, che quindi è, come in questo caso, allogame, però i cloni coltivati sono tutti a propagazione agamica. Comunque senza entrare troppo nel dettaglio, vediamo cosa succede a livello genetico, e anche questa volta lo farò con l'aiuto dei Lego, che oltre ad essere belli sono molto intuitivi. Arriviamo al primo caso, quello delle piante a propagazione, che sono autogame, quindi si autoimpollino. Le piante possono essere, cioè possono esistere delle popolazioni, storicamente venivano coltivate delle popolazioni, che sono sostanzialmente un insieme di linee. Ogni linea si autoimpollina, quindi se io vado a riseminare questa popolazione, l'anno dopo avrò più o meno la stessa cosa. Quello che viene fatto per aumentare l'uniformità dei prodotti è l'estrazione delle linee con il miglioramento genetico, cioè seleziono alcune piante, però da ognuna delle piante selezionate, cioè devo partire da una pianta alla prima generazione, e poi nelle generazioni successive, per forza di cose, saranno tutte uguali. Quindi prendo una pianta dalla mia popolazione, e negli anni successivi, se io vado avanti, avrò una linea, quindi una nuova varietà, che sarà uniforme. È molto semplice, è molto più semplice fare miglioramento genetico sulle linee, perché basta l'estrazione di una pianta, che mi piace, che io ho già una nuova varietà. Per creare nuova diversità, possono essere fatti degli incroci, per esempio, degli incroci forzati, col miglioramento genetico, tra questo e questo, per ottenere qualcosa di nuovo, come per esempio questa, che poi viene selezionata e portata avanti. Sto sempre molto semplificando. Arriviamo al secondo caso, quello delle piante che sono allogame, che quindi tendono non a autoimpollinarsi, ma a prendere polline da piante della stessa specie. Le popolazioni che venivano coltivate in passato erano estremamente eterogenee, cioè praticamente dentro di tutto. Quello che devo fare, perché sono piante che sono molto eterozigoti, quindi a livello genetico, senza entrare troppo nel dettaglio, hanno questa eterozigosi, quindi degli alleli, delle varianti genetiche molto diverse tra di loro. Comunque, quello che devo fare è estrarre, cioè estrarre delle piante per ricavare delle linee. Come faccio? Attraverso l'autoimpollinazione forzata, quindi isolo la pianta in modo che non possa prendere polline da altre piante, per esempio con l'utilizzo dei sacchetti o un isolamento spaziale, e in questo modo se non può prendere polline, cioè se questa pianta non può prendere polline da quest'altra pianta, ovviamente questa mi darà per forza la stessa cosa. Quindi attraverso l'autoimpollinazione forzata estraggo le linee, quindi avrò una prima generazione dove io posso aver estratto questa, cioè non è ancora una linea, però questa pianta e questa pianta, le mantengo ancora in impollinazione incrociata, e vado avanti così di generazione in generazione, che a livello statistico tra la quinta e l'ottava generazione avrò avuto l'estrazione, cioè l'ottenimento totale delle linee, quindi avrò una nuova linea e una nuova linea. Ovviamente se io devo sempre mantenerle separate, perché se le coltivo vicine queste si impollinano tra di loro ancora, quindi per mantenere le linee devo mantenerle sempre in isolamento. Una volta che ho ottenuto le linee, queste due linee possono essere incrociate tra di loro, sempre piantandole vicine oppure faccio l'incrocio direttamente, e attraverso l'incrocio di due linee quello che ottengo è un ibrido F1, quindi ho ottenuto un ibrido, che come vedete può essere molto diverso rispetto alle linee che lo hanno generato, e questo è il motivo per il quale vengono coltivati gli ibridi. Il primo è perché è qualcosa di molto diverso e per alcuni fenomeni è in genere molto più produttivo. Inoltre se io risemino questo alla generazione successiva non riottengo più questo, ma ottengo, cioè vado a ottenere una serie di mescolamenti che mi danno qualcosa di totalmente diverso. Dei mix tra le linee che lo hanno generato, ma con estrema casualità e che danno un prodotto di sforme. Infine abbiamo le piante a propagazione agamica che sono tutte uguali, quindi semplicemente prendo un pezzo di pianta, lo ripianto e ottengo ancora una fotocopia della pianta che lo ha generato. Quindi è molto semplice la situazione. Diciamo che a livello di biodiversità, qui la biodiversità è zero, perché tutte le piante sono uguali. Nelle piante all'ogame in natura che venivano coltivate come popolazioni, ma oggi come ibridi, le popolazioni sono molto geneticamente diverse, mentre hanno una intermedia diversità genetica le piante autogame. ovviamente per un patogeno è molto più semplice attaccare piante a propagazione vegetativa, che sono tutte uguali, perché se riesce a superare le barriere di protezione distrugge tutte le piante, mentre molto più difficile è in questo caso, perché magari c'è un patogeno che riesce a distruggere le piante gialle, che sono rappresentate dal mattoncino giallo, ma non tutte le altre, quindi si ha una sorta di pressione selettiva, mentre in questo caso la pressione selettiva non esiste. Spero che il video vi sia piaciuto, in ogni caso potete scriverlo nei commenti. Grazie e vi ricordo ancora di iscrivervi al canale.